3, 2, 1... Happy Halloween! No, schifo! 3, 2, 1... Sì, popolo, come state? Bene! Siamo qui ad Halloween! Yeah! Siamo pagando miliardi e miliardi voti, guardate! È una merda! Mi vogliamo di più! Sono più da venire! Di più! Di più! Di più! Di più! Ciao a tutti ragazzi! Sono Simoniere Panteppo e benvenuti in questo nuovo episodio come avete visto dall'intro è una specie di telegiornale custom map una cosa stranissima, non so come definirla Salve a tutti ragazzi! Sono Simoniere Panteppo e benvenuti in questo nuovo video dove farò una bella serie, spero e il video in questione dove farò la serie sarà Rising Cities un gioco gratis che si trova sul web e spero che vi piaccia e sì, non ci ho mai giocato non ho fatto niente proprio adesso, meglio come così e ho cominciato spero che vi piaccia il gioco e si comincia! Ciao a tutti! Ciao a tutti! 1, 2, 1. 1, 1, via. Allora, ragazzi, stile Hollywood, io pensavo di utilizzare la clay, che a me mi piace tanto. Usiamo questa qui, no perché mi prendo il ricetto, su, su, su. Questa, poi dobbiamo utilizzare tanto quarzo, le foglie, e della glowstone, e legna. No, no, così, no, eccola, questa qui. Allora, cominciamo facendo una struttura. Allora, facciamo una cosa così. Ciao. Sono entrata. Ciao a tutti! Benvenuti a questo vlog. Vi è piaciuto il video delle cose che amo delle vacanze? Beh, se è sì, lasciate un bel commento e iscrivetevi. Con lo terrorista Vede il tuo calo uscito Vede il tuo calo uscito Vede il tuo calo uscito Grazie a tutti. Grazie a tutti.